giocare con la palla o con le carte per potenziare la risposta automatica delle tabelline, costruire figure con il meccano per comprendere i rapporti tra i lati dei poligoni e con i gommini elastici per scoprire la funzione delle diagonali. E ancora, che cosa si potrebbe fare con una scacchiera? Giocare a dama ad esempio, ma anche introdurre in modo comprensibile le potenze del 2, che da qualche tempo troviamo su molti libri di matematica della classe quinta. E con un bel giopiano di legno? E con uno di moquette? Questi strumenti hanno lo scopo di facilitare la comprensione della materia, ponendosi come tramite tra la realtà quotidiana e le prime forme di astrazione. I quattro incontri si daranno suggerimenti concreti per prevenire e intervenire sulle difficoltà di apprendimento relative alla matematica anche attraverso l'uso di oggetti semplici. Beh, spero proprio di avervi incuriosito. Grazie.